L'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, è stato all'Aquila in pellegrinaggio, insieme con 110 sacerdoti ad alcuni vicari episcopali. La visita, che si inserisce nell'anno del perdono e della preghiera, indetto dall'Arcidiocesi dell'Aquila in preparazione al Giubileo del 2025, ha rappresentato un momento di profonda spiritualità e comunione per le due comunità ecclesiali. Come hai trovato l'Aquila? L'Aquila l'ho trovata in parte tutta nuova, tutta rifatta e in parte quasi tutta da rifare, quindi come un cantiere che già esibisce i risultati di un lavoro, che però ancora, soprattutto per quanto riguarda le chiese, chiede ulteriore lavoro. Ecco, quindi abbiamo sentito il Cardinale e abbiamo raccolto da lui questa, diciamo, storia complicata della ricostruzione. Quindi noi siamo venuti in visita, naturalmente, ai monumenti importanti dell'Aquila, abbiamo visto delle cose bellissime, il Duomo non abbiamo potuto vederlo perché è ancora in restauro. Monsignor Delpini e i suoi accompagnatori sono stati accolti nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove riposano le spoglie di Papa Celestino V. Qui il gruppo ha avuto l'opportunità di venerare le reliquie del Pontefice e di ottenere l'indulgenza plenaria, concessa per tutto il 2024 in occasione dell'Anno del Perdono. Per quanto riguarda il lavoro da fare, quello più importante oggi forse è quello per risolvere la crisi della vocazione al sacerdozio. Voi che passi state facendo? Io sono convinto che la crisi della vocazione al sacerdozio è dentro un contesto di crisi di tutta la Chiesa occidentale, la società occidentale, a proposito della speranza. L'idea che la vita sia una vocazione è diventata straniera in questa zona, in questa nostra Italia, quindi se la vita non è una vocazione sarà difficile che qualcuno capisca che la sua vocazione è quella di fare il prete. Un evento di grande significato religioso e culturale che rafforzerà ulteriormente i legami di fraternità tra le due diocesi e lascerà un segno indelebile nella memoria della comunità aquilana.